Il popolo ebraico era un gruppo di pastori seminomadi formato dall'unione di popoli e tribù diverse. Alcuni provenivano dalla Mesopotamia, altri dal deserto arabo, altri addirittura via mare, come i Filistei. Intorno al 1800 a.C. si trasferirono dalla Mesopotamia alla terra di Canaan, l'attuale Palestina, nella valle del fiume Giordano. Il popolo ebraico era organizzato in dodici tribù, ciascuna composta da famiglie che vivevano insieme, inclusi genitori, figli, zii e cugini. Ogni tribù era guidata da un patriarca, solitamente il membro più saggio e anziano della famiglia. L'autorità del patriarca veniva tramandata di padre in figlio attraverso una cerimonia di benedizione. L'Esodo e i regni nel 1500 a.C., a causa di una terribile carestia, le tribù furono costrette a lasciare la terra di Canaan e migrare in Egitto. Dopo anni di convivenza pacifica e di lavoro su progetti di opere pubbliche, il loro rapporto con il faraone peggiorò. Intorno al 1250 a.C., sotto la guida di un uomo di nome Mosè, le tribù iniziarono un lungo viaggio chiamato Esodo. Lasciarono l'Egitto e tornarono nella terra di Canaan, dove incontrarono le popolazioni locali, soprattutto i filistei. Intorno al 1050 a.C., le tribù si unirono sotto la guida del re Sol per difendersi dai popoli vicini e fondarono il regno di Israele. Dopo Sol, i re più importanti furono Davide, che fece di Gerusalemme la capitale, e Salomone, un re saggio che predicò ideali di pace. Dopo la morte di Salomone, le tribù del nord si separarono da quelle del sud, invasioni ed esilio a partire dal 700 a Tocoulomb, il popolo ebraico dovette affrontare le invasioni degli assiri e dei babilonesi. Nel 587 a.C., Gerusalemme e il Tempio furono distrutti dai babilonesi e molti ebrei furono costretti all'esilio a Babilonia contro la loro volontà. Durante questo esilio venne costruita la prima sinagoga, luogo di raccoglimento e di preghiera. Fu anche in questo periodo che fu scritta la Torah, il libro sacro degli ebrei. Nel 70 d.C. i romani conquistarono la terra di Canaan, costringendo gli ebrei sopravvissuti alla fuga. Il Tempio, ricostruito dopo l'esilio babilonese, fu nuovamente distrutto. Il popolo ebraico fu sparso in tutto il mondo, vivendo senza patria per quasi 2000 anni. La vita del popolo ebraico per molto tempo il popolo ebraico fu nomade e allestiva i propri accampamenti in zone riparate vicino a fonti d'acqua e ai pascoli per i propri animali. Vivevano principalmente come pastori, ma quando si stabilirono nella terra di Canaan dopo la schiavitù in Egitto, divennero agricoltori nelle poche zone fertili disponibili. Coltivavano colture come grano, orzo, lino, alberi da frutto, viti e olivi. Erano anche abili apicoltori e si dedicavano alla pesca lungo le zone costiere. Il popolo ebraico era guidato da un re che aveva potere assoluto, ritenuto scelto direttamente da Dio. La popolazione era divisa in individui liberi con tutti i diritti, schiavi che erano prigionieri di guerra e non avevano diritti e stranieri che erano individui liberi ma non potevano partecipare a cerimonie religiose, possedere schiavi o sposare. Donne ebree Le donne erano molto rispettate ma dovevano obbedire ai loro padri e poi ai loro mariti. Le matriarche, accanto ai patriarchi, ricoprivano ruoli importanti e godevano di alcuni privilegi, come quello di partecipare a decisioni importanti. La religione e i simboli ebrei a differenza di altri popoli antichi, gli ebrei erano monoteisti e credevano in un solo Dio, il Signore, che era il padre di tutti gli uomini e le donne e il creatore dell'universo. Nella tradizione ebraica il nome di Dio non viene pronunciato. Il libro sacro degli ebrei è la Bibbia, che contiene i racconti delle loro origini, la storia dei patriarchi, il racconto dell'Esodo, le leggi religiose e le indicazioni per la vita quotidiana, comprese le regole alimentari. La Torah, i primi cinque libri della Bibbia, è considerata il cuore dell'ebraismo. Alcuni simboli importanti nel giudaismo includono la menorah, un candelabro a sette bracci che rappresenta i sette giorni della creazione, la stella di David, una stella a sei punte, e lo shofar, un corno di ariete suonato durante alcune cerimonie religiose, soprattutto alla fine della festa della Pasqua. I dieci comandamenti, donati da Dio al popolo ebraico durante l'Esodo, furono incisi su due tavolette di pietra e furono conservati in una cassa di legno chiamata Arca dell'Alleanza. L'arca fu collocata nel Tempio costruito dal re Salomone a Gerusalemme intorno al 960 a.C. oggi rimane solo una sezione del Muro del Tempio, noto come Muro Occidentale o Muro del Pianto.